Poker di conferme per l'Amen Scuola Basket Arezzo. La società Amaranto, anche per la prossima stagione, infatti, potrà annoverare tra le proprie fila quattro protagonisti della cavalcata vincente della promozione. Claudio Castelli, Matteo Cutini, Raul Gionmetti e Carlo Provenzala, tutti cresciuti nel vivaio Amaranto, saranno il cardine della rosa a disposizione di Coach Millie per il campionato Cigolda 2019-2020. Freschi protagonisti della vittoria in campionato affronteranno con grande entusiasmo questa nuova stagione in una categoria che solo Provenzal ha disputato con la maglia del Val di Sieve. In questo modo la SBA avrà nuovamente, anche in categoria superiore, una forte identità retina a conferma dell'obiettivo della società di crescere sfruttando il lavoro svolto dal proprio settore giovanile. La priorità è cercare di trovare dei giocatori di categoria e gradualmente iniziare a trovare degli spazi per poter inserire i ragazzi. Il mio obiettivo alla lunga è esattamente quello che hai detto, cioè provare a inserire ragazzi giovani, farli crescere, anche perché così è sicuramente il primo stimolo per il settore giovanile, per i ragazzini che giocano, che vengono a vedere le partite, sognare di giocare un giorno nella prima squadra è fondamentale. Se vedono sempre giocatori da fuori, sempre stranieri, sempre giocatori grandi e non vedono mai dei riferimenti è ovvio che il sogno è meno presente. A malincuore l'Amen comunica che non faranno invece parte della Rosa Giulio Bianchi dopo due campionati ad Arezzo, Lorenzo Dolfi, Samuele Gramaccia, che ha vestito la casacca retina per ben quattro stagioni, tra settore giovanile prima squadra e l'Urina Kirlis. A loro vanno i migliori ringraziamenti per l'impegno e l'attaccamento alla maglia da parte della società dimostrati nella loro permanenza in Amaranto.